Bello, ladies and gentlemen, Lorenzo Iotti! Ciao! Benvenuto! Scusaci, eh! Ciao, come stai? C'è un po' di confusione, benvenuto! Come stai? Bene, bene, tu come stai? Bene, che belle voci, ho sentito! Come? Sì? Che belle voci! Aspetta, sedere, che succede? Possiamo venire? Sì! Vabbè! Ciao! Ci vogliono tenere lontani, insomma, alla fine. Va bene, benvenuto nel nostro studio. Perdonaci, se insomma c'è un po' di confusione, ma noi siamo fatti così, siamo bravi ragazzi, però. Allora, Lorenzo Iotti dirige adesso a Santa Cecilia, una delle più prestigiose orchestre del mondo, appunto Strauss, che abbiamo sentito, Pacekowski e Richard Strauss, Ravelle, e ho visto ieri il concerto molto bello, e nasci da famiglia italo-francese-svizzera, giusto? Esattamente, sì. Mi scusa, il mio italiano provo di parlare, ma devo imparare un po', perché il mio accento è francese. Sono nato in Svizzera, e sì, la mamma è francese, padre era italiano, un misto. Papà, anche papà musicista, tutta la tua famiglia è musicista. Sì, noi siamo tutti musicisti, sì. Perché un ragazzo di 31 anni decide di imbracciare la musica classica? Perché no? Con ancora più da bambino, insomma, poi questa è la tua vita adesso. Diciamo che noi siamo nati veramente in un teatro, le mie sorelle e anche il mio fratello, e era la nostra passione, e la nostra... Noi siamo molto fortunati perché i miei genitori hanno detto l'amore della musica, ma anche la libertà di fare o il sport o la musica, quello che vogliamo. E per me penso che sono nato con questa necessità, necessità di essere sul palco scenico e di essere il ponte tra l'orchestra e il pubblico. Ecco perché sei stato, hai studiato le percussioni come primo strumento, poi il canto, il ruolo preferito all'opera? Baritolo. E quindi di un'opera preferita e cosa hai cantato? Ho cantato in un coro, ma non come solista, ma Simon Boccanegra, per esempio, di Verdi. Verdi, quindi? Sì. E poi hai scelto la direzione d'orchestra, perché il direttore d'orchestra? È affascinante questo lavoro, perché questo non importa veramente. La psicologia, la fiducia tra il direttore musicale e tra le persone è un lavoro di psicologia. Non può essere un buon direttore senza l'amore della gente e dopo il pubblico sente, c'è questo amore tra i musicisti e dopo la linea va direttamente al pubblico. E questo è ogni settimana differente, perché oggi sono in Italia, la prossima settimana sono in Germania, due mesi fa in Giappone e la psicologia con la gente è sempre differente. È come un date, ma con cento persone. L'appuntamento. L'appuntamento. Interessante. È veramente interessante. E tu le devi sostenere tutte e cento sulle tue spalle e tra le tue braccia. Adesso Lorenzo ha diretto ovviamente a Santa Cina, al Teatro alla Scala, ha diretto anche Berliner Philharmonica, che è forse l'orchestra, insomma, il sogno di qualunque direttore, insomma. E adesso sei direttore principale dell'orchestra philharmonica olandese, la Dutch National Opera di Amsterdam. Ringraziamo e vi facciamo vedere come si presenta al pubblico con un video che noi abbiamo adorato e che insomma immaginiamo adorerete anche voi. Ringraziamo e vi facciamo vedere come se presenta al pubblico con un video che noi abbiamo di concerto, di poetry, di dramma, di action, di tutti quei momenti che io vorrei condividere con voi. Sì, magari il mio mondo ha mantenuto tutti i segreti per molto tempo, ma devo aprire per voi. Per sentire vulnerabile, per farlo di realtà, per farlo di vostra comfort zone. Io sono Lorenzo Viotti, il nuovo chief conductor della Dutch National Opera e della Philharmonica Orchestra. E non posso aspettare a te conoscere. Grazie. 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 per me una disciplina di vita è come per la musica, non siamo atleti come in musica classica, io non dormo perché c'è sempre qualcosa di imparare, tutto il giorno sono sempre in giro, in viaggio, è anche un lavoro molto fisico e quando il fisico non va bene la testa è lenta e questo non è possibile perché come direttore d'orchestra è sempre un lavoro di anticipare le cose degli altri e la testa deve essere molto molto veloce e quando io ho un po' di penacui dopo la testa non funziona, è un concetto, è uno scambio l'amore per la musica è solo gioia o ha in sé anche un elemento di tormento? Oh, di molto tormenti, penso che la musica, penso che l'arte è il più ricco perché c'è la solitudine, c'è la gioia, c'è l'ecstasy, c'è la tristezza ma profonda, c'è la morte, c'è la vita, la gelosia, la passione e tutto è molto importante come direttore di l'esperienza di vita, senza questa esperienza tu non puoi dirigere la sesta di Tchaikovsky o una sinfonia di Mahler senza conoscerle la tristezza della morte o la melancolia per esempio e questo è molto più importante che una scuola. Tu il dolore l'hai conosciuto presto perché papà che faceva il direttore d'orchestra è morto quando tu avevi 14 anni? Sì, sì, sono stato a 14 anni con il mio fratello e le mie sorelle direttamente un, come si dice, un adulto. Un adulto. Un adulto. So la, my childhood. La mia infanzia? Change completely. È cambiata completamente. Ma adesso sono l'uomo che io sono solo perché ho avuto questa esperienza di vita e io vedo anche adesso l'importanza della famiglia, delle cose semplici della vita molto più importanti che la carriera, le fan eccetera, questo è un bonus in vita, più importante è la famiglia e gli amici. Ma papà si sentì male proprio mentre dirigeva, vero? Così ho letto. Tuo padre si sentì male mentre stava dirigendo l'orchestra? Sì, 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 era in tre giorni lui, era scomparso veramente, era molto difficile. E tu sei diventato direttore anche per lui, cioè per proseguire la sua vita spezzata in un modo così brutale? Con questa idea penso che non posso essere libero. O faccio questo lavoro perché era una necessità della mia vita di essere lì. Posso solo dire che mi ricordo tantissimo il mio padre come padre, non come direttore d'orchestra perché con 14 anni sono ancora un bambino, un bambino. E questo è molto più importante che avere in testa per me come figlio l'orgogliezza, come si dice? L'orgoglio di essere il figlio di un gran direttore. No, sono molto orgoglioso di essere il figlio di un padre straordinario. E che cosa ti ha insegnato? Qual è la cosa più importante che ti ha insegnato? La semplicità di essere sempre vero in tutti i posti e anche con tutta la gente. Non solamente con la gente la più importante, con la gente anche che on the paper they are not important, e che sono le più importanti. Ti vediamo a Santa Cecilia, queste sono state le prove generali. Le vediamo nel servizio di Giovanna Salini. Auditorium Parco della Musica a poche ore, dal debutto del maestro Lorenzo Viotti andiamo a scoprire il fermento del backstage. Lorenzo Viotti e Giuseppe Gibboni, direttore d'orchestra e violino solista. In comune hanno il talento, il sangue italiano, la giovane età, 30 e 20 anni e una data, quella di ieri, il 4 novembre. Per entrambi è stata la prima volta nella storica orchestra nazionale di Santa Cecilia. E' stato il maestro, figlio d'arte e nonché divo dei social, a dirigere il vincitore dell'ultimo premio Paganini, tornato ad un italiano dopo 24 anni. Il caso ha voluto che per un problema di salute la violinista titolare non potesse esibirsi ed è stato lui a sostituirla. Ho ricevuto questa telefonata dal maestro Sani dell'Accademia Chigiana, che mi diceva Giuseppe se è disponibile per suonare dopodomani con l'Accademia di Santa Cecilia. E io ho detto perché no? Ero senza violino, senza nulla, quindi ho organizzato il tutto per avere il violino il prima possibile. Insomma mi è arrivato il violino la notte, prima delle prove, alle due di notte. La mattina ho preso un secondo in mano il violino e sono andato in prova. Essere chiamati all'ultimo secondo per un concerto com'è? Più emozionante, più elettrizzante o più, diciamo, angoscioso? Mi piace tantissimo, veramente. La prima volta era otto anni fa, per me, con il Concertgeboum Orchestra. È un challenge. Una sfida? Mi piace tantissimo, questa elettricità, questa un po' di paura, ma I love risk. Mi piacciono i rischi. Mi piacciono i rischi? E qual è il rischio più grosso che hai corso nella tua vita? To jump from an airplane alone? Saltare da un aeroplano? Ti sei buttato col paracadute? Sì. Davvero? Sì, è incredibile. You have to try. Io? Sì. Sì, magari insieme ci possiamo bucare. Va bene, dai. L'Italia, ti piace? Ti senti un po' italiano? Mi sento totalmente italiano. Ancora una volta devo imparare la vostra lingua, ma... Lo parli benissimo, però, devo dire, non è piageria, siamo qui tutte incantate. In due mesi meglio. Mi sento totalmente italiano perché penso che ho l'amore delle cose semplici e della vita nel mio sangue. Per esempio, per me, di essere qui, di andare alla mattina al bar, prendere un caffè, è straordinario. di parlare di musica, di vita, con il taxi, con la pasticceria. L'amore della gente per il cibo, per la moda, per la vita, per la bellezza, anche è una cosa incredibile per me. Che poi è strano perché ti piacciono le cose... La musica è complicata, la musica non è semplicità, la musica è costruzione, è ricerca, è studio, no? E quindi, diciamo, la semplicità cos'è? Una compensazione? È un alleggerimento? Penso che lavorare in musica classica, al nostro livello, è come di essere un calciatore in Champions League. È molto difficile, ma di ascoltare la musica classica è una cosa semplice, perché dobbiamo ascoltare con il cuore, semplicemente. Allora, non è un'arte difficile, è un'arte per tutti, ma dobbiamo essere pronti a sentire emozioni straordinarie. E chi sa godere delle emozioni della musica è una persona fortunata, è un'esperienza che auguro a tutti, stasera si replica e domani, venerdì e sabato, Accademia di Santa Cecilia. Lorenzo Viotti, grazie davvero di essere stato nostro ospite, buon vento, come dico sempre io.